Bentornati in questo nuovo video, oggi andremo in team nelle porte di Pokémon, siamo io e Buddy assieme contro voi due Poi faremo una battaglia uno contro uno e cacci contro Buddy Andiamo, i primi due che girano a ruot siamo io e Buddy, giallo, baddone, c'è lì, lo vuoi dire o lo vuoi io? Lo prendo io, allora io vado col prossimo, baddone, dobbiamo vincere, mi raccomando Buddy Charizard quindi? Eh sì, un Charizard Anche io il giallo, ok, partiamo contro Charizard, andate anche voi ragazzi, vediamo cosa è Io per te, taxi, auto per me, baddine, noi non dobbiamo spirciare quello che loro prendono Quindi, dateci però degli indizi ragazzi, ah non posso guardare, è il blu, guardalo come giallo, guarda Marci, l'hai preso? No, che bello, no, era per me, viola No, il viola no, il viola no, il viola no, il viola è cattivo, il viola è cattivo, ah ci dice così che è rosso Ah mia ragazzi, andiamo Buddy, andiamo noi con i prossimi, mi raccomando Buddy, questo è il tuo colore, ti avviso, questo ci porterà la vittoria questo colore, il giallo Vediamo cosa trovi, abbonati al giallo oggi eh Sì, non è male comunque No, non mi lamento, non mi lamento, anche perché se avevi una scuola simile posso andarci una mano Rosso Non venite a sbirciare, vai via, vai via te, vediamo Oh, stai lì dentro Giallo, siamo Vado, giallo Dannazione Vai, finalmente il mio Lugia, poi la volta Avete i pokemon uguali, eh Buddy Vai, tu per me Ah, no, di vendertè, ah, ok, ok, va bene No, no, noi lo facciamo Va bene, va bene, va bene No, perché l'hanno messo colato, va bene, va bene Vediamo, verde, lo sbircio questo, lo sbircio Sul galeo, sul galeo Va bene, dai Ma come è brutto fallito? Ma come ti permetti? Dai, un po' tiro io per Marco Facciamo che non possono uscire uguali, dai Va bene, dai, va bene, va bene, va bene Rosso o viola? Rosso, è più sul viola No, è più sul rosso, raga Vado io sul rosso, dai, vediamo No, raga, no, no No, Charmander, no Va bene, a me è uscito il blu Ma non è piccolo No, era un troll vostro, era un Moltres A me è uscito il blu, Marco Ma qualcuno di voi mi ha trollato È uscito il blu che è un Groudon Non male, ma guarda te mi ha trollato Va bene, vediamo qual è il prossimo loro Vediamo, vediamo Arancione Ma chi è che sta trollando, ragazzi, cambiando i pokemon? Ah, no, ti piccolino Oh, bello però, raga Va bene, va bene Non lo sappiamo, quindi, buddy Ci hanno trollato i campioni di pokemon No, ragazzi, va bene Viola No, raga Il viola è rotto, raga Groudon Dannazione Beh, facciamo un recap delle squadre tutti quanti, ragazzi Per favore, prima di continuare Io come ho Charizard, Dark, Dark Ray e Moltres Mewtwo, Solgaleo, Caiogre Oh Arceus, Lugia e Groudon Mamma mia E tu, buddy Charizard, Lugia e Groudon Eh, sono quello messo peggio Spacchi, eh Guarda che spacchi Posta, ragazzi, come situazione tosta, eh Vai Prossimo colore, arancione ancora Giratina Vai, buddy Beh, dai Vai col tuo Io non lo butterei, eh, Giratina Buddy, mi raccomando Tu sei quello che carri il gruppo, eh Mi raccomando Cosa vuol dire? Eh, vabbè Vabbè, date, ragazzi Forza, date voi Ok, vai tu per me, Xiao Vado Mi piace questo team Mi piace, mi piace Vediamo Blu Vai È tuo Vediamo Non male, non male Ragazzi, ricordiamoci che Ha tirato Buddy, non vale, Xiao Non è vero Non ho tirato, io ho aperto la porta Ma non è vero, mamma mia Che ladro Non ho guardato bene, eh Ma non ho aperto la porta a Xiao Arancione, eh Vabbè, come me Come me, Giratina Che bomba Va bene, ci posso stare Prossimo, Buddy Mi raccomando, io credo in te Perché tu sei quello con la squadra più forte Vai È il viola, guarda Vediamo il viola Eh, il viola sarebbe bello Il viola sarebbe un ottimo colore Dallo, Baddone Vediamo Giallo Zekrom, non male Zekrom, non male Buddy, ottimo, ottimo Vai, vai Vediamo Color, color Viola Viola, greve Hai visto che ci va il viola? Cosa scelgo, Baddone? Il verde Il verde Nooo Cosa? Scendi giù Non puoi sbricciare Ma io non ero sopra Cioè, non è vero Allora, Xiao Ti è uscito il Vediamo, Xiao Rosso Rosso Interessante Vabbè No, non male Vediamo, Marci Vai, vai tu per me Stiamo recuperando, Badd, a livello di forza Pokémon Ti vedo Perché Vediamo Scegliamo l'ultimo pochone Speriamo che esca il viola Guarda il viola Verde No, il verde è Mewtwo, raga Non ci credo Vediamo Ah sì, è vero, è Mewtwo Ottimo, ottimo, ottimo Va che bello Tocca a me, tocca a me VIOLA Ooooo Non è vero, dai Oh, che è blu No, no, che è blu Madonna, il blu Cosa aveva? Non fidarti del blu Hanno sbirciato nella porta? Hanno sbirciato nella porta? Ma tu cos'hai preso? Io ho scelto il Mewtwo anch'io Vai Ho l'arancione, Xiao Ma non puoi sbirciare prima nella porta, Madame Marci Non vale Io non ho neanche visto chi c'era Ma sei un clown, guarda, guarda Guarda, guarda Vai, Madame Marci Dai, tira per me, tira per me Fai che scaviola, per favore Questa non mi è piaciuta da parte di Madame Marci, ragazzi Vabbè, l'ha preso Xiao, non io, comunque Va bene Arancione C'è sta la parola Quindi, siamo io e Xiao contro Marci e Buddy Bene, Xiao Arcius contro Mewtwo A fianco abbiamo Marci contro Buddy, eh Quindi Devi difendere il tuo team Io difenderò molto il mio team Ma il mio team è troppo forte, dai No, ho sbagliato No, ho sbagliato Devo farti una mossa in tipo Vabbè Eh, ma guarda quanto poco danno ti faccio No, ma ci sta Cos'è buono contro il tuo Pokemon Eh, ma io non è che posso darti una mano così tanto, Xiao Ma, tira, guarda Ti do una mano Vado su Google e ti cerco bene quali mosse potresti fare contro il mio Mewtwo, Xiao Mentre io, però, distruggo il tuo di Arcius Eh, la Madonna Eh, sì, potresti utilizzare delle mosse di tipo Buio, Coliottero o Spettro contro di me Cosa che ovviamente il tuo Arcius non è provvisto, mi sa, eh, Xiaolino Mi dispiace veramente tanto, ma purtroppo ti sto già distruggendo Ma no, a me per niente, a me per niente Ehm, bene Questo potrebbe fargli male al tuo schifoso Potresti farmi del danno Ma hai fatto del danno, in effetti Ma a me ne ho fatto altrettanto, dimmi Eh, ma me ne hai fatto un botto, tu Mi hai distrutto il mio Mewtwo Oh, per l'amore, te l'ho levato di mezzo con lo schifoso Bravo, 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 Xiao Complimenti, bravo Ti sei mosso molto bene Però io vado No Eh, Darkrai No Darkrai non ha nessuna mossa, dannazione Però potrei potenzialmente provare a addormentarti Che mi ammazzi No, perché erano mosse Ah, non puoi farmi danno No, te lo addormento e basta E con le fatti di Darkrai prende il danno Io penso di voler mettermi a piangere No, no, ovviamente il pianto non è utile in questa situazione No, 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 no Te lo addormento e ti faccio prendere un paio di danno Basta, farmelo dormire In più poi direi cambio Pokémon Dato che il tuo Ma stavo dormendo? Eh, sono svegliato Ma come ti permetti? Eh sì, eh Ok, va bene Allora utilizzo tutte le mie mosse più cattive del mio Ghiratina Vabbè, mi sembra veramente esagerata No, no, a me è par giusto Poi, no, non faccio nulla Mi spieghi perché io ti faccio Cioè, tu mi fai tutto sto danno Io te ne faccio così poco Ma ti ho fatto pochissimo danno Ma che dici? Ma se tu sei Se io c'ho metà vita già Fai vita E tu guarda Mi hai ucciso Non te l'ho ucciso Sei ancora in piedi col tuo Lugia Però ho un preferito anche Che dici? Eh, che è appena morto Eh, mi sembra giusto Mi sembra giusto Comunque a fianco stanno facendo un Groudon Contro un Regigigas Cattivi, cattivi ragazzi Doppio Groudon nel campo di battaglia Incredibile, ma vero Però, oh, mi togli poco, bravo Bravo, mi piace questa cosa Che tu mi tolga molto poco Vedi, vedi di finirla No, mi sembra giusti Vai Va bene, va bene Accetto, accetto Ma chi ti mette in campo però? Questo è un gran problema No, lo so io Sì, ma qualcosa Madonna, mi devasta No, no, ma se utili contro i te Ma ti faccio Madonna Ragazzi Xiao mi ha fatto una gran mossa Una gran mossa Mi conviene a sto punto Adormentartelo Perché non è che possiamo girare così Con un Groudon per il mondo No, 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 no Odormentati Odormento, Marco Odormento No, dai, Dark Ray Odormento Odormento No, no, ragazzi Questo Groudon è troppo forte Cosa succede? Ragazzi Che situazione difficile Eh, ma Charizard Tutte mose di tipo fuoco C'è il mio Charizard Va bene, meno male Ok, ok Ghiratina Eh, sì, eh Ragazzi Situazione difficilissima questa Difficile Situazione difficilissima Io sono messo molto male Perché il mio Charizard No, ragazzi Eh, già Eh, mi sa che hai vinto a te questa battaglia Eh, sì Hai vinto Hai vinto Non è ancora detto Hai vinto Hai vinto Non ti si brucia nera Anche guarda Veramente questa situazione Riccola È veramente becce È veramente becce La situazione Io Guardalo, guardalo, guardalo Che vince Guardalo che vince Guarda, guarda Oh, non è attaccato Non è attaccato Dai, ancora un altro wing attack Ti prego Non è attaccare Gretina Non è attaccato No, no In che senso Non è qua Dove è uscito Hai vinto Hai vinto Hai vinto Bravo Vediamo qua Eh, questi stanno ancora battagliando Qua stanno battagliando Eh, i nostri amici Tanto lui si è volato Oh Oh Non ci sono più entrambi i Pokémon Ah, no Aspetta che ha appena schierato Lugia lui C'è Lugia Gli è volato via C'è Lugia di Buddy È tosta, eh Lugia di Buddy Vediamo cosa succede È la battaglia difficile Andiamo su, andiamo su in stanza Amici, come sta andando? Però, non ho perso Eh, l'ultima cosa E ho perso Ha vinto noi Marcia Allora Ha vinto anche Xao da me, ragazzi Quindi Ma tu non hai idea Marcia ha vinto proprio di C'è tanto C'è tanto Questa è stata la nostra La mia salvezza Ti dico solo questo Ragazzi Noi ci fermiamo qua Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Ciao